Sì, brevemente nella Commissione Capitolina Nonacommercio abbiamo ricevuto tre differenti proposte di mozione, due delle opposizioni, una di maggioranza, che andavano nella stessa direzione che è quella di andare a prorogare in questo caso i termini per i canoni concessori per le maggiori occupazioni. Abbiamo esteso poi questo intendimento anche a tutti i canoni che riguardano gli operatori dei mercati perché la delibera 30, alla quale attualmente non è stata data ancora piena attuazione, prevede un passaggio di competenze nel rispetto anche del regolamento del decentramento amministrativo dal comune ai municipi. Siccome questo procedimento è ancora molto indietro, noi vogliamo dare la possibilità di adeguarsi ai municipi e non vogliamo creare preoccupazione e il caos, come sta succedendo purtroppo in alcuni municipi, nella nuova interfaccia che si va a creare per gli operatori che adesso pagheranno i canoni direttamente su voci municipali e vogliamo dare piena informazione sia ai municipi sia agli operatori che devono effettuare un'operazione diversa dal solito. Questo in parallelo anche con il Presidente della Commissione Roma Capitale, Angelo Sturni, che faremo a breve una congiunta con l'ufficio decentramento per agevolare questo processo, proprio per dare attuazione piena alla delibera che ha l'intendimento di portare agli enti di prossimità queste competenze, proprio per agevolare anche gli operatori per il pagamento. Siccome questo processo ha richiesto più tempo del previsto, abbiamo pensato tutte le forze politiche di agevolare questo procedimento. Grazie.